Ciao ragazze, scusate l'assenza ma finalmente sono tornata con un nuovo video e come potete vedere dal titolo il video dedicato sul sistema dei chakra. Finalmente eccomi qua pronta per voi per parlarvene. Intanto prima di iniziare a parlarvene vi rimando subito a un altro video che ve lo metto qui sulle schede, quindi cliccateci su per aprirlo. Che cos'è? È un video nel quale spiego quali sono le tecniche olistiche per riacquistare benessere sia psicofisico che emozionale e andatelo a guardare perché sicuramente capirete meglio adesso di che cosa sto parlando e andate a guardarvi anche il video degli oli essenziali che anche questo ve lo metterò qui su qualche scheda magari più avanti in questo video oppure lo trovate giù nell'info box. Vi dico di andare a guardare anche quello degli oli essenziali perché in questo video vi parlerò anche degli oli essenziali che si usano per riequilibrare i chakra. Altra cosa super importante, se non sei ancora iscritto iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere tutti gli altri prossimi video, inoltre lasciami un like per sostenermi. Iniziamo questo video rispondendo a una domanda che spesso mi fanno in tanti. Cosa sono questi chakra? Allora, i chakra non sono altro che dei centri di energia vitali situati lungo il nostro corpo, esattamente lungo la colonna vertebrale. Sono sette principalmente, il primo parte del basso, quindi situato all'altezza del coccige, fino a poi tutti gli altri sei si distribuiscono verso l'alto, fino ad arrivare alla sommità della testa dove abbiamo il settimo chakra. Questi centri di energia, immaginatevi come delle ruote che girano su se stesse, vanno a distribuire l'energia vitale nel nostro corpo. Giusto per farvi capire meglio il concetto vi faccio vedere qualche immagine dai miei libri. Ecco qui, c'è questa signorina e vedete che ha situato qui i chakra fino alla sommità della testa. O meglio ancora, forse vi risulterà più comune questa immagine qui. Eccolo. Lo studio dei chakra deriva dal più antico sistema di cura indiano, il quale individua appunto questi sette punti principali e fondamentali nel nostro corpo, dove appunto, come vi ho detto prima, si concentrano queste forme di energia invisibili, dette anche corpi sottili. I chakra simboleggiano il collegamento tra la sfera fisica e quella spirituale. Coincidono entrambi con il sistema endocrino del nostro corpo e quando questi sono equilibrati e in armonia, aiutano a far funzionare meglio tutte le parti del corpo in cui sono situati. Invece, quando sono sbilanciati o addirittura bloccati, non fanno altro che peggiorare dei disagi fisici, ma anche mentali ed emotivi. Infatti, gli antichi medici orientali, che poi non erano altro che monaci indiani, buddhisti, tibetani, sapevano bene che il disagio si manifesta prima sul chakra, poi sul corpo e infine nella mente. In termine tecnico, vengono associati alle componenti yin e yang. Non so se avete mai sentito parlare dello yin e dello yang, fanno parte del simbolo Tao ed è la perfetta metà di questo simbolo dove una parte yin e una parte yang, ma al centro di entrambe le parti c'è una componente opposta. Tutto questo sta a rappresentare il perfetto equilibrio, la perfetta armonia, dove si intende che una parte, chiamiamola positiva, non può essere completamente equilibrata se al suo interno non c'è una piccola presenza di parte negativa e viceversa. Ritorno a farvi vedere questa immagine perché il Tao è proprio quello che vedete dietro questa figura, infatti eccole qui, ci sono anche i nomi. Se vogliamo esprimerci meglio, diciamo che yang è la parte più attiva, ecco la parte attiva, mentre yin è la parte passiva. Infatti vi possono essere utili questi segni più e meno. Quindi yang più energia, yin meno energia. Si potrebbe definire yin, quindi la parte con meno energia, tutto ciò che è di aspetto delicato e rispettoso. Prima appunto, come vi dicevo di prima, la passività, ma anche l'introversione, la contrazione, la chiusura, il vuoto, la freddezza, l'umidità, la sedatività, il timore, ma soprattutto la prudenza. Ovviamente questa parte, quindi questa predominanza yin, se non è equilibrata da una piccola parte di yang, crea un flusso di energia poco armonico, non va assolutamente bene. Infatti la persona che è caratterizzata da questa predominanza avrà sicuramente dei disagi. Sarà infatti una persona molto chiusa, molto si è disagiata, magari una persona che soffre anche di depressione. La notate proprio perché avrà degli atteggiamenti molto chiusi, quindi un atteggiamento passivo, sarà eccessivamente timida, eccessivamente triste e apatica, avrà un aspetto corporeo molto trascurato, lasciato andare, avrà i tessuti poco tonici, avrà lo sguardo spento, non sarà capace di intrattenere una persona con il colloquio, con il dialogo, avrà poca determinanza della tonalità vocale gestuale. Dall'altra parte invece abbiamo la predominanza yang. Possiamo definire tale tutto ciò che esprime, che si esprime, che si espande grazie alla forza, grazie alla volontà. Esprime un carattere di attività, estroversione, apertura, luce, stimolo, coraggio, collera e rischio. Una persona che avrà tanta predominanza yang, sicuramente anche qui avrà delle problematiche. Sarà per certi aspetti una persona molto frivola, poco riflessiva, avrà sicuramente un atteggiamento giocoso e allegro. Avrà eccessiva positività ed energia. Sarà una persona con un fisico molto asciutto, palestrato, quindi avrà tensione di muscoli e tessuti. Sarà una persona con un colorito olivastro della pelle, sguardo brillante e logoroicità. Avrà sicuramente una forte personalità con un tono di voce molto squillante e deciso e soprattutto con una gestualità ben definita. E ancora tanti tanti esempi. Vi ho fatto tutti questi esempi per farvi capire come i chakra, appunto, influiscono molto sulla persona e ne vanno a determinare il carattere, ma anche comunque l'aspetto fisico. Quindi entrambe le componenti yin e yang, o parte meno dominante e parte dominante, sono intimamente collegate tra di loro. Ad eccezione però per il primo e per il settimo chakra, che sono ai poli opposti e quindi sono singoli. Il primo e il settimo chakra, essendo i canali più esterni al centro energetico, hanno la caratteristica di porre in relazione l'uomo con la terra e con l'universo. Quindi il primo chakra, il primo chakra renderà l'uomo più unito alla terra, che è il primo, quindi situato verso il basso. E il settimo, che è quello situato sulla sommità della testa, avrà il compito di metterlo in relazione invece con l'universo. Tra i sette chakra esistono delle precise affinità. Infatti il primo col settimo tramandano un'energia di base con un'energia spirituale. Sono collegati anche il secondo con il sesto, tramite l'energia del sentire a livello materiale, con l'energia del sentire invece a livello extrasensoriale. Avete presente ad esempio quando si dice il mio sesto senso mi dice che? Ecco, quello. Sono affini anche il terzo con il quinto. Questo fa parte dell'energia della mente operativa e del potere personale e dalla parte del quinto invece l'energia della mente superiore e della comunicazione. Il quarto chakra invece, che è situato in questa zona, quindi a livello del cuore, funge da ponte tra i primi tre e gli ultimi tre. Adesso andiamo a vedere singolarmente, uno per uno, questi sette chakra. Hanno tutti dei nomi un po' strani, particolari, perché appunto la loro origine è indiana. Partiamo dal primo chakra, cui nome è Muladhara. È il primo chakra, quindi quello posto alla base della colonna vertebrale. Su chakra forma le nostre fondamenta. Rappresenta la terra e quindi è collegato con i nostri istinti di sopravvivenza e il nostro senso di realtà. Rappresenta la stabilità fisica. È collegato dunque alle articolazioni, alle ossa, ai denti. È legato alle ghiandole surrenali, all'olfatto, soprattutto olfatto collegato a tutti i casi di raffreddore, ma anche alle paure, alle tensioni e al nervosismo. Poi stiamo al secondo chakra, si chiama Svakistana. Questo chakra invece è situato nell'addome, un po' in basso, dietro gli organi sessuali. È collegato in generale a tutte le emozioni e soprattutto alla sessualità, quindi alla creazione e al procreare. Abbiamo poi il terzo chakra che si chiama Manipura ed è situato nel plesso solare, proprio sopra lo stomaco. Questo chakra importantissimo regola il nostro metabolismo, quindi la nostra alimentazione, la volontà e l'autonomia personale, allo spirito di libertà, alle soddisfazioni, garantendoci tanta energia vitale. Passiamo al quarto chakra che si chiama Anahata. È situato a livello del cuore, collegato con l'amore ed è l'integrazione degli opposti nella psiche. Ciò significa che un quarto chakra sano ci permette di amare profondamente e incondizionatamente e ci aiuterà a sperimentare la pietà e un senso profondo di pace. È collegato alla gioia, all'equilibrio e purtroppo quando presenta delle disarmonie, lui reclama al nostro corpo facendosi sentire con attacchi di ansia, di panico, tachicardia e infarti. Quinto chakra, Amavishuddha, è situato al centro della gola. È il chakra della comunicazione, del suono, dell'identità creativa e dell'auto espressione. È collegato alla tiroide e all'udito. Il sesto chakra si chiama Aina ed è situato al centro della fronte, tra gli occhi, quindi terzo occhio. È il centro del comando, della conoscenza, della saggezza, dell'intuito. Infine abbiamo il settimo chakra, si chiama Sastrara. È quello che si trova sulla sommità della nostra testa, riferisce alla conoscenza come consapevolezza pura. Ci collega al pensiero, all'identità individuale, universale e all'autocoscienza. È collegato con l'universo e anche questo col sistema nervoso, associato alla spiritualità e al collegamento della divinità. Ad ognuno di questi chakra viene associato anche un colore, una nota, un elemento, un cristallo e una pianta. Anche un pianeta è un segno zodiacale. Tipo, avete presente quando si chiede il segno zodiacale della persona e si cerca di capire un po' come è questa persona a livello emotivo e caratteriale? Ecco, attraverso i chakra si può fare la stessa cosa. Tra i metodi che uso io per trattare i chakra, servo molto del colore e quindi con la tecnica di cromoterapia, con le pietre e quindi lì si usa la cristalloterapia e con l'aromaterapia attraverso l'associazione delle piante. I esempi che vi posso fare per quanto riguarda la cromoterapia, molti operatori del settore, molti operatori olistici usano la cromopuntura. Che cos'è la cromopuntura? Non mi spaventate, non c'è nessuna iniezione. Sono solamente delle punte di cristallo luminose che si accendono una volta che vengono avvitati nell'apposito manico bastuccino e vengono poi puntate o appoggiate sulla pelle nei vari punti del corpo dove appunto bisogna ridare equilibrio di energia. Quindi attraverso la terapia del colore si dà a riequilibrare quel chakra o comunque quella disarmonia, quello scompenso. La tecnica degli oli essenziali invece per riequilibrare i chakra è molto comune. Vi faccio vedere due esempi di oli essenziali che io ho per riequilibrare i chakra. Sono questi, sono il T3 che in genere va a riequilibrare il primo chakra e la K per il sesso chakra. Ancora, come vi dicevo prima, attraverso i cristalli, ve li faccio vedere, io qua tengo sempre con me un sacchettino con i cristalli. Questi qua sono proprio cristalli piccolini, tascabili, che porto sempre in borsa, non si sa mai, perché questi secondo me hanno un effetto veramente immediato. Sono questi, spero di non farli cadere, vediamo se li vedete, comunque ve li faccio vedere. Sono sette pietre, ogni pietra corrisponde a un chakra. Quindi abbiamo, quindi prendo una a una, abbiamo primo chakra, secondo chakra, terzo chakra, quarto chakra, quinto chakra, sesto chakra e settimo chakra. Come si usano questi? Questi possono essere indossati e quindi tenerli sempre a contatto con sé durante la giornata, se ci sentiamo particolarmente compensati da un'emozione, un'energia e quindi ad esempio se ci sentiamo un po'... ad esempio vi faccio l'esempio del quarto chakra, della pietra del quarto chakra, ad esempio se ci sentiamo un po' sconfortati, se ci sentiamo un po' afflitti, se non ci sentiamo magari tanto equilibrati, ci sentiamo indecisi, poco amati, possiamo indossare, o almeno noi donne, possiamo indossare questa pietra all'interno del reggiseno. E già questa a contatto con la pelle ci aiuta. Oppure solitamente la pietra del quinto chakra, che è il chakra della gola, si può utilizzare come ciondolo da posizionare, proprio qui in questo punto. In teoria con tutte le pietre si possono realizzare dei ciondoli per collane, e poi scegliendo la lunghezza adatta della collana far appoggiare la pietra sul punto interessato. Oppure semplicemente se avete bisogno di riequilibrare tutta la vostra persona, potete stendervi e posizionare le pietre lungo i chakra, almeno per mezz'ora. Vi aiuterà tantissimo. Oppure li potete tenere in mano per un po' di tempo, perché la mano ha molti sensori energetici e quindi va ad assorbire l'azione delle pietre. Spero che questo video vi sia stato utile e vi sia interessato. Se così mi raccomando, non esitate a lasciare un pollice in su per aiutare me e il mio canale. Vi ringrazio tantissimo se lo fate. Se avete dubbi o domande, scrivetemi pure nei commenti, sono sempre a disposizione e rispondo sempre a tutti, non appena è possibile. Un grosso bacio a tutti, a presto, ciao!